C'è il toro perché è scappato dal circo orfea ed è qui Come mai la chiamano il toro? No, questi per motivi sessuali Alla festa di Luca, Alici come prima era l'ospite d'onore Infatti sono stato accolto con grande calore al Softly Andrea! Andrea! Ma bando alle ciance Ciao, sono Luca, questa è la mia festa, siamo tutti contenti e... No, ancora non è arrivato il vino, quindi stiamo soltanto contenti per adesso Attenzione, perché questa non è una festa banale Non è il tuo diciottesimo Diciannovese Come mai? È una cosa curmè Ma passiamo agli invitati Come stanno le capilla? No, allora no Comunque alla fine con questa ragazza l'intervista l'abbiamo fatta, ve la sintetizzo a volo Continuiamo con i ragazzi C'è un ragazzo in particolare che vorremmo intervistare insieme a noi, possiamo andare? Facciamolo vedere bene Toccando prima, anche se ti ho infastidito, ho notato che è tosto e all'insù Stiamo sempre tosto e all'insù però Ed ecco la mamma del festeggiato Mi chiamo Gilda Signora Gilda, le posso svelare un segreto? Dimmi C'ha un pezzettino di cose dentro al dente Nooo Innanzitutto che tema abbiamo a questa festa? Ora è nero Ma come mai faici di tutto quanto sta festa nero e oro? E' credo, c'è la cosa porto Ti sembra la mutana di che colore ce l'hai? Nero O pesce oro però Tra i tanti ho trovato anche qualcuno restio a farsi intervistare Non è il momento di fare dichiarazioni Non vuole fare alcuna dichiarazione? No, non commento Come mai? Sono affono, mi dispiace E' un problema proprio di laringe Eh sì, bravo E' un problema di laringe e anche di lingua Ha la bocca secca, secchezza delle fauci Passo dopo, passo Allora dopo, eh Io l'aspetto In pista intanto ci si scatena Ma ce l'ha ancora il movimento, eh? Ha dato una dentata clamorosa Si è scardato il dente E chiaramente parte la canzone di Blanco Che cosa ti fa impazzire? Eh, un momento niente Io amo cantare Cosa mi fa impazzire? Eh, tante cose Mangiare La libertà Le donne, le donne A f***a, chi come mi piace? A f***a A f***a Ballare Hanno risposto tutti la f***a Ma io sono donna? La cocapponata La banana Facciamo parte di un oratorio Ah, lei è la signora Maria dell'oratorio Signora Maria Sì, sono io Lei è la signora Maria di cui tutti mi hanno parlato Ah, finalmente Ecco la signora Maria Ma ero di spene, è male Come hanno parlato? Hanno parlato benissimo Ci credo padre Ha un bel movimento di collo, signora No, ma non in quel senso Mentre tutti ballano io mi accorgo di qualcosa di pericolosissimo Un cecchino stava mirando dritto al petto di questa ignara signora E allora non ho avuto altra scelta che intervenire Signora attento, attento Non c'è bisogno di ringraziarmi Le ho salvato la vita È abbastanza tamarra questa collana Sì, è abbastanza tamarra la collana Noi dico è importante essere tamarri No, non è che un è tamarra È mascolinità Ma a proposito di mascolinità Noi avevamo promesso di tornare dal nostro amico con la secchezza delle fauci Ho visto una mano impertinente È mia moglie È permesso Anche dopo tanti anni è sempre bello palpare la moglie in discoteca Dubbiamente Serve per risvegliare dei sensi che a un certo punto si alzopiscono Si addormono, suo marito è ancora un peperino Molto, molto peperino Ma io lo sono ancora di più Mi fai impazzire, mi fai impazzire Brava, brava